Buongiorno a tutti, eccoci dunque a un nuovo appuntamento dedicato alla storia e all'arte di Sassuolo. Oggi voglio parlarvi delle pianelle di via, cioè delle targhe toponomastiche stradali prodotte dalla manifattura ceramica Carlo Rubiani, di cui nelle raccolte civiche d'arte storia del comune di Sassuolo sono conservati una decina di esemplari. Il 5 dicembre 1871, a pochi anni dall'Unità d'Italia e dalla promulgazione di nuove normative che obbligavano gli amministratori locali a riordinare la numerazione civica e le insegne toponomastiche stradali, l'imprenditore sassolese Carlo Rubiani, che dal padre Giovanni Maria aveva ereditato nel 1862 la settecentesca fabbrica della Maiolica, già dei Dallari, poi del conte Ferrari Moreni e dal 1869 a seguito della divisione dei beni con il fratello Don Antonio, divenuta di sua esclusiva proprietà, scrisse una circolare ai sindaci delle più importanti città italiane, proponendo loro le sue tavolozze da servire per la numerazione delle case, come pure di quelle per l'indicazione delle vie e delle piazze, fabbricate di Maiolica con vernice bianca colorata in blu, di cui, da più mesi, la sua fabbrica aveva intrapreso il confezionamento. Fu dunque una straordinaria operazione di marketing. Realizzate in marmo, infatti, queste targhe stradali sarebbero costate molto di più alle amministrazioni comunali delle varie città italiane. Così la proposta di Rubiani fu ben accolta e gli ordinativi furono numerosissimi. Sebbene anche la manifattura Ginori di Sesto Fiorentino producesse analoghe targhe in ceramica, infatti, le pianelle e sassolesi in Maiolica, di notevoli dimensioni e di precisa nettezza in quanto ai caratteri e ai colori, sbaragliarono rapidamente la concorrenza. Grazie poi all'abile uso promozionale di cataloghi a stampa, che pubblicizzavano i diversi prodotti con l'indicazione del prezzo, come quello del 1901 conservato a Modena presso l'archivio storico comunale, di cui stiamo vedendo le immagini, Carlo Rubiani ricevette richieste da diverse parti d'Italia e persino, pensate, dal Nord Africa, come testimoniano, infatti, le targhe bilingui in francese e in arabo, che sono ad esempio conservate presso la galleria marca Corona. Come anticipato, presso le raccolte civiche d'arte storia del comune di Sassuolo, sono conservate una decina di queste targhe toponomastiche stradali. Provengono, quasi tutte, da strade o piazze che nel corso del tempo hanno cambiato nome, come ad esempio quelle provenienti da quella che era chiamata Piazza Vittorio Emanuele II, che dopo il secondo conflitto mondiale fu dedicata invece ai martiri partigiani, così come quelle provenienti dall'attuale via Mazzini, che invece un tempo si chiamava Corso Umberto I, eccetera. Marcate a secco sul retro, queste pianelle di via sono interessanti anche perché costituiscono una delle prime testimonianze dei grandi formati usciti dalla fabbrica Carlo Rubbiani di Sassuolo tra il 1871 e il 1911. Gran parte di queste targhe sono attualmente esposte in una piccola mostra allestita presso i locali della residenza municipale di Sassuolo. Come fatto in occasione di questa esposizione? La presentazione di questi materiali, che di solito sono conservati nei depositi delle raccolte civiche, offre anche l'occasione per riscoprire i vecchi nomi delle strade e delle piazze della città, ripercorrendone dunque brevemente la storia, sulla scorta delle ricerche compiute da Natale Cionini per la seduta del Consiglio Comunale del 15 maggio 1872, in cui si vagliarono le nuove proposte per la toponomastica stradale, in previsione della collocazione delle rispettive tavolette indicanti le decretate denominazioni. La relazione di Cionini era così compita che si decise poi di pubblicarla nel settembre dello stesso anno, in uno scritto d'occasione per l'inaugurazione del ponte sul fiume Secchia. Dunque raccontiamo la storia di queste strade. Piazza Vittorio Emanuele II. Già detta grande o della guglia, per via della guglia di Marco Pio del 1591, fu poi chiamata anche del mercato o delle bestie, perché vi si teneva al mercato del bestiame. Celebra invece ora la memoria dei martiri partigiani. Piazzale Moreali. Sconosciuta ai più, a questa piccola piazza si accede dall'attuale via Cesare Battisti, già via delle beccherie, cioè del pubblico macello, poi del commercio. Celebrava la memoria dell'omonima illustre famiglia sassolese, di cui si ricorda in particolare il medico Gian Battista, citato con l'ode da Geronimo Tiraboschi nella sua biblioteca modenese. Via Case Nuove. Era l'attuale via Ciro Menotti, così denominata perché agli inizi del Seicento fu l'ultimo tratto urbano aggiunto alla città. Fu qui edificato, per l'abbondanza di spazio, il monastero delle Clarisse di Santa Chiara, poi destinato a ospedale civile. Via Arcangeli. Dedicata allo storico sassolese Francesco Maria Arcangeli, che qui abitava, su suggerimento di Natale Cionini, l'antica via Perfiorano fu poco dopo dedicata al re d'Italia Umberto I. Celebra ora invece la memoria di Giuseppe Mazzini. Via Umberto I. Come detto, questa via era precedentemente nota come via Arcangeli e prima ancora come via Perfiorano. Qui, agli inizi del Novecento, il commendatore Umberto Guerzoni, di ritorno dall'Argentina, pare si sia affidato al celebre architetto milanese Giuseppe Sommaruga, per la ristrutturazione della sua abitazione, poi nota come Villa Maria o Villa Guerzoni. E infine via Borgo Superiore, che era l'attuale via Felice Cavallotti, nota come via Borgo e divisa dalla piazzetta dei Becchi o del Carbone in due tratti distintamente chiamati Borgo Superiore, verso la montagna, e Borgo Inferiore, verso Piazza della Guglia. Ringraziandovi dunque, come sempre, per la vostra gentile attenzione, vi do appuntamento ad un prossimo episodio e vi saluto cordialmente. Grazie, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!